NGANCEN SARAGON NGANCEN SARAGON progetta, produce e commercializza ganci di traino e accessori automobilistici per la maggior parte dei veicoli presenti sul mercato. Innovazione, digitalizzazione e servizio al cliente sono i nostri tratti distintivi. Siamo fabbricanti. Milioni di auto in tutto il mondo utilizzano i ganci di traino Aragona. Un braccio scanner 3D, macchine per il taglio laser, piegatrici CNC all'avanguardia, saldatura robotizzata e cabine elettrostatiche per la sabbiatura e la verniciatura ci permettono di fornire ganci con i più alti standard qualitativi. Clienti in tutti e cinque i continenti, inclusi diversi fabbricanti di automobili, si affidano ai nostri prodotti. Siamo la prima azienda spagnola ad avere il Car Loading Standard, anche conosciuto come Carlos. Un esame di 92 ore che simula fedelmente la vita di un gancio di traino durante il suo utilizzo a bordo di un veicolo. I severi test di laboratorio ci permettono di vendere i nostri prodotti nel rispetto delle più severe norme di qualità e sicurezza. Siamo innovazione. Ci distinguiamo per essere pionieri nello sviluppo di prodotti elettronici. Numerosi brevetti e premi internazionali lo attestano. Gli impianti Aragona Can, da noi prodotti, sono gli unici sul mercato che possono essere riprogrammati attraverso l'app Enganchens Aragona. Siamo il primo produttore ad aver sviluppato il miglior strumento per facilitare il lavoro dell'installatore di ganci di traino e impianti elettrici. Aragona Visual Con Aragona Visual mettiamo a disposizione dei nostri clienti centinaia di video di montaggio passo passo, per risolvere dubbi e risparmiare tempo di montaggio e formazione. Grazie alla realtà aumentata, possiamo vedere nella nostra app come i diversi modelli di towbox appaiono in qualsiasi veicolo. Con un potente motore di ricerca per i ganci di traino e kit, informazioni dettagliate sui prodotti e numerose funzionalità per i clienti, il sito web Enganchens Aragona è il miglior strumento di lavoro per officine e professionisti del settore. Siamo soluzioni. Con il marchio Toccar commercializziamo tutti i tipi di soluzioni di trasporto. Viaggiare con il nostro bagaglio nella parte posteriore dell'auto è l'opzione migliore per risparmiare carburante o batteria rispetto ai box da tetto. Rapporti elaborati degli esperti confermano che il trasporto del bagaglio nella parte posteriore del veicolo migliora l'aerodinamica, facilita le operazioni di carico e scarico e ci permette di guidare senza rumore. Siamo squadra. Siamo uno staff in continua formazione e apprendimento, che ama fare cose insieme dentro e fuori dal lavoro. Siamo squadra. Siamo Enganchens Aragona. Volete unirvi a noi nel vostro prossimo viaggio?